Salotto letterario di Cadasarremo, stiamo parlando di Cadasarremo Writers, a farci compagnia nel nostro salotto c'è Anna Dauria, benvenuta Anna. Grazie, grazie, salve a tutti. Allora, tu sei qua con il tuo romanzo, diciamo subito si intitola Trema la vita dalle macerie, del sisma rinasce la speranza. Mi sembra di capire che si adatta a un fatto storico questo. Sì, sì, assolutamente, la chiave interpretativa è contenuta ovviamente nel sottotitolo, dalle macerie del sisma rinasce la speranza, quindi le due parole rinascita e speranza e questo è in effetti il messaggio che voglio consegnare ai lettori attraverso la storia della protagonista, la giovanissima Aurora. Il vissuto di Aurora appartiene a tante donne, tanti uomini che in un momento di difficoltà si sono aggrappati con disperazione alla vita, dopo una tragedia, un dramma che ha fatto tremare la loro esistenza, che ha scardinato le loro certezze, ha spezzato i loro sogni. La storia di questa ragazza inizia da Bisaccia, un piccolo borgo medievale dell'Irpinia, che purtroppo il 23 novembre del 1980 è stato sconvolto da un terribile sisma, come sappiamo, che ha strappato la vita a 3.000 tra uomini, donne e bambini. È bastato soltanto un minuto, poco più di 60 secondi per distruggere, per cancellare tutto, case, famiglie, amori, profumi, tutto ciò che è vita, tutto cancellato in poco più di 60 secondi. Col passare del tempo la giovane protagonista ripercorre il passato, continua a pensare al dramma che ha subito e soprattutto continua a sentire il pianto di chi non è più in vita, di chi non ce l'ha fatta, il pianto soprattutto dei bambini, di chi non è mai nato, della sua bambina. Perché purtroppo Aurora perde tutto durante il sisma, ma in primis perde una parte di sé, con la piccola bambina che portava nel suo giovanissimo grembo. Perché Aurora il 23 novembre del 1980 aveva appena 17 anni, una gravidanza accettata con difficoltà che progressivamente era diventata per lei tutto, era diventata l'unica ragione di vita. Quindi lei perde purtroppo la bambina a causa del tremuto e a questo punto il libro pone a tutti i lettori, a tutti noi un interrogativo importante. Come si può uscire da una situazione così difficile? È possibile riscattarsi dal dolore? La storia di Aurora in effetti ci dimostra che si può, anzi si deve, è doveroso trovare la forza di continuare a vivere dopo un dramma così profondo, così intenso. È vero, dopo un sisma lo sappiamo, le case, le strutture, le abitazioni col tempo si possono riedificare, ma l'anima, l'anima una volta spezzata, l'io, una volta in frantumi, difficilmente si ricompone. Veramente è difficile, ma non è impossibile. Ed è questo che la storia di Aurora vuole dimostrare a tutti noi, che noi abbiamo una grande forza interiore, una forza morale che dobbiamo riscoprire proprio nel dolore. Ecco, mi dicevano gli antichi patimatus, cioè dal dolore nasce la consapevolezza, nasce la conoscenza. Il dolore è un'esperienza che ci consente di scoprire non soltanto i nostri punti di debolezza, ma anche la nostra forza. E da lì, dalla nostra forza, che dobbiamo ripartire per ricominciare a vivere, per ricostruire ex novo la nostra vita. Quindi noi abbiamo due, ci troviamo di fronte a due citazioni, un romanzo quasi storico, perché racconta di un momento storico, di una tragedia che ha segnato l'Italia, perché è sicuramente successo in Erpinia, però è una cosa che ha segnato l'Italia. Dall'altra parte abbiamo naturalmente l'esortazione ad avere questa forza per vincere il dolore, anzi quasi imparare da quelle che sono esperienze negative. Sì, assolutamente, assolutamente. La salvezza di Aurora in realtà è contenuta in uno scatto, in una fotografia, perché ognuno di noi ha bisogno per riprendersi da un grande dolore di un input. L'input spesso è rappresentato da un affetto, perché di solito non si è mai soli, o non si dovrebbe mai essere soli nel momento del dolore e della sofferenza. Ma nel caso di Aurora l'input è rappresentato, lo stimolo per ricominciare a vivere è rappresentato da un oggetto che è il carico di valenza affettiva, appunto una fotografia, uno dei pochissimi effetti personali che sopravvive al sisma, che i carabinieri trovano nella sua abitazione e glielo riconsegnano. Questo oggetto, questa fotografia ha un valore importante e significativo, perché è una fotografia che le ha donato il papà qualche anno prima del sisma, prima di morire. Il papà era un soldato ed è stato per molti anni impegnato in Afghanistan in missioni umanitarie. Questa fotografia rappresenta dei bambini, dei bambini che giocano in trincea, si stringono, si tengono per mano e stringendo si formano un cerchio. Il cerchio è proprio il simbolo di una vita che deve continuare nonostante tutto, perché nel cerchio l'inizio e la fine si perdono, si identificano. Dopo ogni tramonto ci deve essere necessariamente un'altra. Certo, ci stai raccontando il romanzo in maniera, devo dire, anche molto appassionata, devo dire, anche molto coinvolgente, perché così deve essere, insomma, per quanto riguarda l'approccio al romanzo. Racconteremo tutto in maniera abbastanza, diciamo, come dire, esaustiva, anche più in una cornice più interessante che quella di Cala Sanremo. Quindi tu sarai, sei stata selezionata, quindi sarai nel periodo di Sanremo appunto a presentare questo tuo romanzo e quindi lo farai naturalmente con quelli che sono, diciamo, un pubblico abbastanza vasto, che è il pubblico, come sai, nazionale dell'evento. Tu sei la seconda volta che partecipi a Cala Sanremo, se non sbaglio, giusto? Certo, certo, ho partecipato già l'anno scorso con Malajin e Tulipari nel cemento. E quest'anno torno con questa storia che ci porta dall'Italia all'India, perché parliamo anche di reincarnazione e di spiritualità, perché in qualche modo la protagonista riuscirà a ritrovare la bambina che ha perso. Non spoileriamo niente, perché così magari diamo la possibilità al lettore di poter, insomma, seguire e quindi di poter scoprire questo viaggio. Una trama molto ricca. Infatti, 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 molto ricca, esatto. Anna D'Auria, il romanzo si intitola Trema la vita, dalle macerie del sisma rinasce la speranza. Anna, io ti ringrazio molto per essere stata con noi, l'appuntamento naturalmente è rinnovato a Cala Sanremo e come si dice in questi casi, ci vediamo a Sanremo. Grazie Anna. Grazie, grazie, un saluto a tutti.